Quella della moglie è stata una tragica scomparsa per la quale ribadisco la mia innocenza, la mia totale stranità, ciò che è accaduto. Questi sono solo alcuni dei passaggi della lunga lettera inviata alla redazione locale del resto del Carlino da Matteo Cagnoni, il 51enne dermatologo ravennate in carcere da una settantina di giorni con l'accusa di avere massacrato abbastonati in testa la moglie, la 39enne Giulia Ballestri, la mattina del 16 settembre scorso in una loro villa disabitata nel centro di Ravenna. Rispondendo a sua volta a una lettera inviata gli alcune settimane fa dai giornalisti sulle accusi a lui attribuite, Cagnoni si è limitato a scrivere che in questa fase, con le indagini in corso, se rilasciasse dichiarazioni di natura difensiva produrrei il sole effetto indesiderato di alimentare confusione e polemiche. Poi il resto sarà la verità processuale a mettere le cose al loro posto. Cagnoni non ha fatto ulteriore ceni all'omicidio della defunta consorte, descrivendo invece a lungo la vita carceraria per la quale ha avuto parole di elogio per il carcere di Ravenna, dove era stato trasferito dopo aver tracorso altrettanto tempo in quello di Sogliacciano. Per quanto riguarda il futuro, si è detto fiducioso di essere restituito presto alla mia vita e, una volta assolto, tornerò al mio lavoro e dedicherò tutta la mia vita ai figli. L'ultima pagina delle sei totali è dedicata per intero a una pittoresca e a tratti ingiusta e indecorosa rappresentazione mediatica della mia personalità, ovvero l'uso di una Bentley bianca che alcuni media gli hanno attribuito per conquistare a suo tempo la defunta consorte. Chi mi conosce sa bene come la mia natura sia completamente all'opposto e di come il mio paradigma sia l'understatement anglosassone e non la pacchianeria.